Come siamo messi in Italia sul suicidio assistito Vi racconto un episodio L'episodio è questo Io volevo organizzare un convegno che faccio parte di un comitato di etica clinica tra le altre cose dell'ASI Toscana Sud-Est sono vicepresidente e volevo organizzare un convegno sul suicidio assistito in collaborazione con la consulta di etica sempre di cui faccio parte in un paese qui vicino ad Arezzo Ho avanzato proposta all'assessore della cultura che è un amico con cui avevo un ottimo rapporto alla prestazione di centrodestra e al sindaco e inizialmente mi ha detto ok facciamo questo convegno informativo sul suicidio assistito Vado alla riunione con l'assessore per definire il tutto e gli faccio presente che il nostro convegno sarà di natura scientifica che mirerà a promuovere maggiormente la cultura attorno all'informazione e alla conoscenza attorno ai principali dispositivi normativi che regolano in Italia il suicidio assistito che oggi è un diritto acquisito e allora si sono sgranati gli occhi dell'assessore cattolico di centrodestra ma come? Il suicidio assistito è un diritto garantito dall'Italia? No! Il suicidio medicamente assistito non è un diritto e gli ho detto ti invito a cercare su internet questo vedevi che tale assessore che è anche avvocato tra l'altro non era uno così non conosceva, non aveva capito che il suicidio assistito in Italia oggi è un diritto garantito dallo Stato Il convegno è saltato poi, chiudo la storia proprio per un conflitto nato su questa interpretazione quando uno dice io non sono d'accordo la risposta che bisognerebbe dirgli è sì, al di là delle convinzioni personali oggi in Italia se si chiede formalmente ora vi dirò perché di questo formalmente il suicidio assistito si può ottenere ma allora voi mi direte ma come mai allora sento parlare sempre di queste persone l'ultima è stata quella attrice di Roma non mi ricordo mai come si chiama che vanno in Svizzera nelle cliniche come ha fatto DJ Fabo con Marco Cappato caso di rilevanza nazionale importantissimo per la bioetica dell'Ana non solo vanno in Svizzera per chiedere il suicidio assistito come mai queste persone sono costrette a tanto e oggi vi racconterò perché facendo un po' una storia del suicidio assistito in Italia che è una cosa importante è un fatto di iconico ma di cui nessuno parla e del punto a cui siamo oggi allora la cosa nasce con una legge che è il testo base della bioetica in Italia perché abbiamo solo quella che è la 219 2017 ne avete già sentito parlare in altre occasioni la 219 2017 è una legge importante che disciplina tante cose tra cui il consenso informato lo disciplina perché il consenso informato era già in essere utilizzato da moltissimo tempo in ambito medico però lo disciplina il consenso informato è l'abbandono delle cure dicendo che il medico non ha alcuna responsabilità penale nel caso in cui c'è il trattamento e per trattamento valora richiesto a paziente ovviamente per trattamento si intende anche perché l'alimentazione è la idratazione forzata quindi è una legge voi capite di un'importanza fondamentale perché in quella legge si dice che se un paziente lo richiede e fa testamento biologico perché disciplina anche il testamento biologico che viene indicato come disposizione anticipata di trattamento quindi se questa legge dice che se c'è paziente porta questo testamento biologico a comune dal notaio o nello sportello dell'ASER questo testamento viene caricato nella banca dati nazionale il medico che ha paziente cura lo scarica legge le volontà del paziente se il paziente non vuole essere alimentato non vuole essere idratato rifiuta il trattamento dopo essere stato informato della natura di questo trattamento non solo lo può fare ma il medico è in dovere di andare in conto alla sua volontà ovviamente non c'è solo la volontà e l'autonomia del paziente ma come dico sempre anche quando vado a fare questi corsi di bioetica la sapienza eccetera c'è sempre l'incontro tra l'autonomia decisionale del paziente e l'autonomia professionale e la responsabilità del medico nel senso non è che il paziente decide no io voglio fare questo trattamento scusate e tu fammelo fare no è sempre il medico che parla con il paziente dà delle indicazioni terapeutiche e mette a disposizione più percorsi magari di terapia e il paziente ha facoltà di rifiutare anche uno o più tutti quei percorsi di terapia ok questa è una legge molto importante quindi eliminata la responsabilità penale del medico poi però è successo il caso DJ Fabo è successo tutto quello che è successo con DJ Fabo che è stato accompagnato da Marco Cappato in Svizzera per suicidarsi perché non ne poteva più di vivere in quelle condizioni terribili da quel rafflitto torna in Italia Marco Cappato che si autodenuncia allora da lì nasce tutto il processo Cappato Antoniani caso Cappato Antoniani dice Fabo era Fabiano Antoniani che culmina con una sentenza della Corte Costituzionale di importanza magistrale che è la 242 del 2019 in cui si dice che se sostistono determinate condizioni tra cui presenza di diciamo di dolore diciamo refrattarietà al trattamento quindi i trattamenti non funzionano dolore fisico psicologico insopportabile o malesse fisico psicologico insopportabile percorso sostenuto con uno psicologo insomma tutta una serie di anche percorso cura e palatieve però questo è un punto un po' delicato comunque se sostistono dice la Corte la sentenza tutta una serie di requisiti che sono tipici di chi alla fine della vita dei malati terminali che spesso non sono neanche più indipendenti e gente quindi che è più o meno nelle situazioni di DJ Fabo per intendersi che se ricordate muoveva solo gli occhi se sostissono queste condizioni queste persone hanno diritto inequivocabile di richiedere il suicidio medicamente assistito qual è la differenza rispetto a un'eutanasia che l'eutanasia prevede la somministrazione da parte del medico del farmaco direttamente in questo caso è il paziente stesso che attiva il dispositivo per il suicidio assistito che viene preparato da un medico generalmente lo fa il medico anestesista e poi vi dirò le criticità però è lui il paziente stesso che va a premere il pulsante per esempio se c'è un pulsante se ne ha facoltà se ne è in grado e di solito i macchinari sono per via endovenosa e di solito il farmaco utilizzato è il tiopentale quindi però c'è anche su questa discussione quindi è il paziente che va a attivare questo dispositivo e lui si suicida praticamente però è medicalmente assistito perché il medico prepara il tutto e assista affinché tutto vada bene certo che se qualcosa andasse storto il medico interverrebbe per garantire la fine totale della procedura senza arrecare sofferenze inutili a paziente dopo la sentenza della corte costituzionale che è una sentenza della corte costituzionale in cui si diceva che in Italia c'è un vuoto normativo sul tema e i giudici della corte costituzionale hanno detto sbrigatevi a fare una legge e siamo al 2019 5 anni fa dopo la sentenza il primo caso di suicidio assistito chiesto e ottenuto in Italia è stato quello delle Marche con l'Asur Marche che si è trovato il comitato di rica clinica delle Marche che si è trovato in una battaglia legale tra il tribunale l'azienda sanitaria locale quindi l'Asl il paziente eccetera perché sì c'era stata questa sentenza però ancora le regioni le aziende sanitarie non erano pronte assolutamente ad espletarla ad attuarla io tra l'altro su queste cose ho scritto un articolo su bioetica rivista in disciplinare il ruolo dei comitati etici nel fine vita dell'anno scorso che mi invito a recuperare anche online l'ibiotica è una rivista a pagamento però se volete approfondire c'è quello tra l'altro ho trovato anche sul mio accademia.edu il mio articolo o sul mio sito anche c'è il link quindi allora questo per dirvi che c'è stato il tribunale delle Marche che ha deciso alla fine che sì il suicidio assistito di quel paziente chiamato Mario nome di Finzione doveva essere portato a termine e voi direte bene allora se il suicidio assistito è stato riconosciuto come diritto dalla sentenza della Corte Costituzionale se c'è stato anche un caso un pregresso in cui tutto è andato a buon fine beh da oggi in poi chiunque va a chiedere in Italia il suicidio assistito lo ottiene e in realtà no in realtà non funziona così formalmente lo ottiene formalmente la sentenza della Corte Costituzionale essendo una sentenza quindi non essendo una legge quindi essendo soggetta anche a interpretazioni formalmente ti dice che se sostistono certi requisiti che devono essere valutati da un'unità tecnica multidisciplinare da medici e quant'altro il paziente può richiedere il suicidio assistito il comitato etico e viene chiamato a esprimere un parere su questo e il comitato etico verifica sostanzialmente il discorso della privacy verifica che ci sia stato il consenso formato eccetera solitamente da parere positivo il comitato etico se il tecnici hanno detto che sussistono quei requisiti quindi fatto questo formalmente la ASL ti dice sì ok ti do il permesso di suicidarti cioè tu puoi accedere al suicidio medicamente assistito però non ti metto a disposizione il farmaco la parte della messa a disposizione delle attrezzature del sistema nazionale pubblico e del farmaco soprattutto non è una parte ancora recepita dall'azienda sanitaria oggi cosa sta accadendo in Italia ed è il motivo per cui Zaia se vi ricordate attualità in Veneto ha provato a fare una legge regionale sul suicidio assistito perché c'è un voto normativo e quindi Zaia ha detto giustamente grande Zaia che non ha senso stare sempre a perere le sue posizioni quando in realtà c'è una corte costituzionale che si è espressa e a livello operativo però manca la controparte cioè le aziende sanitarie non sanno fino a che punto possono andare avanti o non lo vogliono sapere perché spesso danno una lettura agli avvocati di questa azienda faziosa Zaia voleva adoperarsi e è stato vietato di farlo perché ancora una volta non si è capito non hanno capito quelli del centrodestra chi si oppone a questo tema non è stato capito che qui non stiamo a parlare di se è d'accordo o meno è giusto o meno il suicidio assistito qui stiamo parlando di una cosa che è già un diritto perché riconosciuto dalla corte costituzionale che è l'ente più alto in Italia e su cui bisogna legiferare per garantire che questo diritto venga messo in pratica venga messo in operatività ok che si possa dare garanzia di questo diritto ok siamo a questo punto qua ancora non l'hanno capito allora il tentativo di Zaia è fallito l'Emilia Romagna ha detto che no non la facciamo la legge sul suicidio assistito bene la Toscana deve rinnovare la commissione regionale ora di bioetica che ferma da diversi anni e vi sto parlando delle regioni più virtuose sotto questi punti di vista e ha detto che anche qui Gianni presidente della Toscana no non faremo una legge sul suicidio assistito perché ha argomento divisivo allora continuiamo così e il suicidio assistito rimane appeso lì rimane come una cosa che è garantita formalmente ma che nei fatti non può avere attuazione perché perché se l'azienda sanitaria ed è su questa linea che si stanno allineando tutte le aziende sanitarie non concede il farmaco per il suicidio assistito che cosa succede? che il paziente ha un ok formale dal copitato etico dall'azienda sanitaria quindi dall'ASL dai tecnici dai medici ha un ok formale a fare tutto però a livello diciamo a livello operativo procedurale non può andare avanti perché il farmaco innanzitutto costa tantissimo e se non è dispensato dal sistema sanitario nazionale va preso da qualche altra parte metti anche che te lo danno gratuitamente ci vuole uno un medico che vada a farselo dare perché se si presenta un paziente in farmacia anche con il foglio dell'ASL o chi per lui un parente e anche lì sarebbe a persi una serie di discussioni perché nel suicidio assistito non contano i parenti conta il fiduciario cioè la persona verso cui il paziente depone la sua fiducia che è formalmente indicata nel testamento biologico quindi metti si presenta il fiduciario in farmacia e chiede il farmaco il farmacista fa gli occhi grossi così perché se mi chiedi un barbiturico potente con dose letale beh io ci sta che per evitare io farmacista per evitare di incappare in problemi denunce e quant'altro non te lo do e quindi a volte e ve lo dico perché in Toscana è capitato un caso nell'ASL Toscana Nord-Ovest un paziente ha trovato un medico talmente bravo che è andato in farmacia e se l'ha fatto dare il farmaco però ha fatto una cosa un medico in pensione che va ben al di là del mero ruolo di assistere al suicidio assistito ecco quindi per intendersi c'è questo problema poi c'è il problema del kit i kit della ponfa infusione che viene utilizzata per il suicidio assistito anche questo costa molti soldi costa 5-6.000 euro uno fa prima prendere e andare in Svizzera a questo punto ecco perché la gente poi opta per questa soluzione sapendo tra l'altro che chi l'accompagna non è punibile penalmente un medico metti chi l'accompagna per la legge del 9 per la sentenza della corte non è punibile penalmente quindi possono andare in Svizzera pagano e fanno tutto lì perché costa talmente tanto questo dispositivo che non possono fare altrimenti e poi c'è il problema anche del modo di somministrazione metti che un paziente non possa permettersi andare in Svizzera perché costa anche quello che non possa permettersi di dispositivo ma che ha sofferenze tali e aspettative di vita talmente basse da richiedere il suicidio da desiderare bramare il suicidio assistito come era dice Fabo potrebbe ricorrere ad un'unica soluzione che è quella della somministrazione del farmaco per bocca ma il rischio qual è? che somministrando il farmaco per bocca in questi pazienti spesso invalidati messi a letto eccetera questo farmaco venga rigurgitato fuori e se si rigurgita fuori un farmaco letale durante una procedura di suicidio assistito nelle fasi finali della vita ci vuole un medico che a quel punto intervenga con un'eternasia praticamente cioè andando a evitare sofferenze inutili capite voi quante problematiche ci sono a livello pratico perché è sulla pratica scusate se non ho affreddato è sulla pratica che le aziende sanitarie oggi stanno facendo muro in relazione al suicidio assistito a livello formale è tutto consentito è tutto lecito a livello pratico le aziende sanitarie non vogliono di fatto concedere il suicidio assistito perché non vogliono mettere a disposizione in macchinario perché non vogliono mettere a disposizione la pompa a infusione il farmaco eccetera e quindi per il paziente diventa un'odissea un'odissea che sarà fatta in tutti i casi in cui si richiede suicidio assistito o di ricorsi contro ricorsi tribunali che daranno ragione al paziente alla fine obbligando l'azienda sanitaria come è successo in Trentino scusate un mese fa a dare anche il farmaco perché è successo in Trentino quindi se si fa ricorso la si avvinta però da qui che si fa ricorso che si ottiene passano dei mesi e la tempistica in questi casi di fine vita è fondamentale perché se si arriva a richiedere una cosa così nelle fasi finali della vita si è veramente in condizioni tremende per arrivare a chiedere il suicidio e questa purtroppo è la problematica in Italia ultimo aggiornamento ora è stata emessa anzi è in preparazione una nota da parte del ministero della salute verso le regioni su chi debba decidere a livello di comitato etico per questo suicidio assistito è stato indicato come organo il comitato per la sperimentazione clinica vi farò un video a parte sui comitati però vi basti sapere che per comitato etico solitamente qui in Italia per lo meno ma anche in Europa si intende quasi esclusivamente il comitato di sperimentazione clinica cioè quello che valuta gli studi dei farmaci gli studi clinici dei farmaci però ci sono anche altri comitati uno di cui faccio parte io come vi ho detto che sono di etica clinica che invece hanno funzione clinico assistenziale vuol dire che valutano altre cose come ad esempio conflitti etici durante procedure mediche come per esempio dovrebbero valutare il suicidio assistito perché hanno delle competenze al loro interno specifiche rivolte a questo e invece ora sicuramente ve lo do quasi per certo si andrà verso questa direzione ovvero che i comitati di sperimentazione che non hanno le qualifiche non hanno le competenze non hanno i membri giusti per valutare questi casi valuteranno i casi di suicidio medicamente assistito quindi è una gran confusione io spero ti avevi fatto un po' di chiarezza anche perché non se ne parla mai in modo approfondito o in modo semplicemente diciamo così limpido si sente dire tante cose voglio che mi rimangano due cose una che il suicidio assistito è un diritto ormai in Italia quindi se lo si chiede se hanno certi requisiti che sono quelli elencati dalla corte costituzionale sentenza 242 2019 lo si può ottenere l'altro è che nei fatti è difficile ottenere questo diritto perché c'è ancora un muro alzato delle aziende sanitarie che si rifiutano di fatto di dare farmaco di dare attrezzature operando una lettura di questa sentenza che è del tutto sbagliata arbitraria e faziosa nel mezzo c'è la politica che galleggia ed è ancora ferma io sono d'accordo io non sono d'accordo non capendo che se un diritto è stato ormai consolidato bisogna fare di tutto per garantirlo al di là di quello che lo si pensi perché se no si crea confusione per i pazienti ma anche per le aziende sanitarie fatemi sapere cosa ne pensate mi invito a riprendere il mio articolo di bioetica che parla anche dei comitati etici iscrivetevi al canale mettete un mi piace ci vediamo alla prossima ciao ciao